Non si ferma la Happy Mania dopo il video Happy from Como Lake che ha superato le 10.000 visualizzazioni. Il filmmaker Comasco Davide Giordano ha realizzato una nuova versione di Happy coinvolgendo questa volta il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana a lanciare l'idea, il presidente provinciale Matteo Fois per sensibilizzare i comaschi. La realizzazione di Happy from Croce Rossa Italiana a Como ha coinvolto i 16 comitati locali con la collaborazione di 300 volontari per 4 giorni di riprese. Online da poche ore il video è già vicino alle mille visualizzazioni. E allora eccone un estratto. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori È il momento di una pausa